Oggi realizzeremo insieme queste buonissime chiacchiere senza uova, molto croccanti. Gli ingredienti sono 3 cucchiai di zucchero, 250 g di farina zero, 25 g di burro e 100 ml di latte. Iniziamo polverizzando 3 cucchiai di zucchero con il turbo. Poi inseriamo 250 g di farina zero e 25 g di burro. Impostiamo la velocità a 7 e inseriamo 100 ml di latte mentre il mousser cousine impasta. Dopo diamo un'altra leggera impastata a mano, aggiungendo la farina se necessario. Facciamo riposare un'oretta l'impasto a temperatura ambiente. Trascorso un'ora stendiamo l'impasto, io ho utilizzato per aiutarmi prima un mattarello e poi la nona papera. Stendiamo quest'impasto gradualmente finché non sarà sottilissimo. Quando la sfoglia sarà di circa un millimetro di spessore, la taglieremo in quadrotti. E incideremo ogni quadrotto. Infine, portiamo l'olio di semi di arachidi sul fuoco e lo facciamo raggiungere alla temperatura di 180 gradi centigradi. Solo a questo punto friggeremo i quadrotti. Ci vorranno davvero pochissimi secondi. Friggiamoli un po' per volta. Una volta pronti, mettiamoli su una carta assorbente. Quando saranno raffreddati, possiamo cospargerli di zucchero a vero. Lasciate il vostro like se questo video vi è piaciuto. Grazie. Grazie. Grazie.